Allora, riprendiamo con questo applauso fatto per Tonino, quindi si ritorna alla competizione Giovannini, quando vuoi puoi partire Partito Allora, riprendiamo con questo applauso e si va al barrel Ma guardi signor Mazzo, rimano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori è salito l'andare a comandare Passi laterale delle seguite e andiamo al colpe L'ultimo esercizio eseguito e chiude con un tempo di 1,10 e 70 giorni Allora, 2,72, il percorso netto per lui